Cazzo di maschietto di merda, io devo andare là a Luletano. Buongiorno, scusi, scusi, salve. Chi è? Sono un rappresentante. Chi ti ha fatto andare qua? Era aperto il cancello, ho visto gli olivi. Che cazzo vuoi? Allora, le ripeto, sono un rappresentante e come vendo questo macchinario, che raccoglie l'oliva. No, guarda, per raccogliere l'oliva mi vede tutte le ragazze ogni anno. Facciamo tutto qua, non ci serve la roba della città, a me non me ne frega niente. No, vabbè, questa non è roba della città, questa è roba che usa tutti. Non mi fa perdere tempo, dai, c'è anche da fare qua. Può guadagnare un sacco di soldi con questo macchinario, non ha più mano d'opera. Sì, perché no, questa mi leva l'oliva, poi me la fragna e poi me la bottiglia pure, magari. Allora la conosci, la conosci questo macchinario? Eh perché, che fa questo macchinario? Allora, raccoglie l'oliva, tutto in automatico, lei può fare tutto da solo, non c'è bisogno di nessuno. Eh, però quanto costa? Eh, vabbè, c'è un costo, ma no. Milioni di euro, le banche, le cose, a voi della città, me conosco io, voi date un sacco di fregature, date. Allora, questo è un macchinario nuovo, che può prendere i finanziamenti dall'Europa, in tre anni se lo ripaga e poi è tutto guadagno, non ha più bisogno di mano d'opera, fa tutto da solo. Cioè io faccio tutto da solo? Tutto da solo. Quindi non diamo, cioè non diamo nessuno. Non devi diamo a nessuno. Allora, allora sta macchina pure, che è? Pure... Dai, non scherzi, è un macchinario. Che, 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 che è? Che è? Allora, ma che cazzo me ne frega, richiamo le ragazze. Eh. Allora, ma chi mi piace per l'uomo? Allora, ma chi ho? Detta anche qui. E n'e 18. E davvero l'ieltà.